Lassù, appena sopra l'orizzonte, c'è Mercurio, se lo riuscite a vedere, è quello con una sfumatura rossa, poco lontano dalla nuca. Un concerto straordinario, quello di apertura della perdonanza celestiniana, con grandi artisti sul palco e temi caratteristici della perdonanza, ore intense che hanno emozionato il pubblico aquilano, che nonostante la pioggia caduta prima e il fresco poi, hanno voluto essere presenti nel grande prato antistante La Basilica, e così colori delle luci che battevano sul rosone di Colle Maggio, la forza canora degli artisti e delle orchestra e dei cori sul palco, diretti magistralmente dal maestro Leonardo De Amicis, colui che ha riuscito a portare qualità e soprattutto spettacoli cuciti apposta per l'Aquila. Flavio Insinna ha portato dei monologhi sul palco, intervallati dalla musica, dai canti, anche dalla tradizione aquilana, con Gio Ritorno, artista abruzzese. E' una grandissima emozione, credo che la serata soprattutto dica una cosa, che la musica è come la vita, viene bene solo se si fa tutti insieme, e in questo periodo così complicato di questo nostro mondo e di questo nostro paese abbiamo, fondamentalmente abbiamo bisogno di perdonarci, di perdonare, di essere perdonati e di stare insieme. Lorena Bianchetti sul palco ha chiamato ad uno di uno gli artisti, ognuno con la sua proposta musicale per la città. Un amico dell'Aquila è Red Canziano, che dopo il suo tour, che ha fatto il sold out con l'istituzione sinfonica, ha giurato amore eterno a questa città. Sul palco ha magistralmente interpretato uno dei grandissimi successi intramontabili dei uomini soli. Gli artisti in questi giorni stanno vivendo l'Aquila, tra questi c'è anche Ted Neillay, il Gesù originale di Jesus Christ Superstar, anche lui ha omaggiato l'Aquila. E' stato un tripudio di emozioni, di canzoni, di talenti aquilani con voci straordinarie, con la chiusura affidata ad un gigante della musica, il maestro Riccardo Cocciante, originario di Rocca di Mezzo, che ha voluto omaggiare il pubblico con un Ave Maria da brividi. Davanti alla Basilica di Colle Maggio, uno spettacolo immenso, apprezzato, emozionante, che mai più sarà solo per una notte all'Aquila tutto questo.